Anticipazioni tempesta d'amore. Lunedì 15 febbraio 2021. Franzi è ancora molto indecisa dopo la proposta che ha ricevuto da Stefan. Non sa se deve lasciare il suo lavoro in hotel oppure meno. Tim, dal canto suo, è letteralmente spiazzato quando apprende che la ragazza intende seguire il Baumgartner. Ed è invaso da terribili dubbi. Franzi, dopo un'attenta riflessione, decide di rifiutare l'offerta di Stefan. Il quale, furibondo, mette subito in discussione la relazione con la giovane. Kristoff, è riuscito finalmente ad ottenere delle schiaccianti prove, per smascherare Ariane Kallenberg, è stato Karl, ad incendiare il suo hotel in Thailandia. Così, coraggiosamente, decide di presentarsi al cospetto della Dark Lady, che senza lasciarsi in alcun modo intimidire, finge di non essere affatto dispiaciuta, per il suo ex marito. Karl, nel frattempo, è molto combattuto, e non sa a chi credere. Se al Salfield, che lo invita a schierarsi contro Ariane, o se a quest'ultima. Lei, non esita a minacciarlo, di brutto. Cornelia, vorrebbe tanto dar vita ad un hotel biologico. Purtroppo, la donna, è costretta a scontrarsi con Werner. iscriviti al canale. ascriviti al canale. Grazie a tutti.